Per questo nuovo video sulla fotografia nel cinema parleremo di un film in cui più o meno recitato Io sono Simone Tarka e in questa serie di video vi parlo di fotografia nel cinema Analizzerò vari film dal punto di vista di un fotografo Parleremo dunque di come i direttori della fotografia e i registi abbiano illuminato alcune scene Insomma di quanto sia importante la fotografia nel cinema stesso E sì, non è propriamente vero che io abbia recitato in questo film Però alcuni di voi mi hanno sottolineato una certa somiglianza con George McKay Detto ciò oggi parliamo di un film che in tantissimi mi avete chiesto di trattare 1917 Per la regia di un Sam Mendes che si era un po' fermato dall'ambiente del cinema negli ultimi anni Abbiamo alla fotografia un direttore di cui abbiamo già parlato nello scorso video Quello su Blade Runner Infatti entrambi i film, Blade Runner 2049 e questo 1917 Sono le due pellicole con cui Roger Deakins Ha vinto l'Oscar Beh sì, due Oscar di fila per due film che hanno una fotografia veramente pazzesca Vi dico solo che è uno dei più grandi direttori della fotografia del cinema contemporaneo E vi riassumerò anche brevemente quella che è la trama di 1917 È una trama molto semplice e abbastanza lineare Questa linearità sarà il cardine di questo video e del film stesso Siamo nell'aprile del 1917, quindi prima guerra mondiale E sostanzialmente il film segue la vicenda di due giovani soldati Che devono portare un messaggio per sventare un genocidio da parte dei tedeschi Non vi dico altro perché la trama è molto semplice e non voglio farvi troppi spoiler Come vi ho detto però appunto iniziamo a trattare il tema della linearità Questo film inizia con una sorta di countdown Io mi emoziono un sacco quando un regista in un film Riesce a farmi percepire al meglio il tempo che stanno vivendo quei personaggi Parlavo proprio ieri sera con la mia ragazza di Star Wars Episodio 4 Quando viene distrutta la morte nera Ecco in quel momento abbiamo tre presenti che vivono lo stesso countdown Che però si uniscono sinergicamente grazie alla bravura di come l'ha pensato George Lucas E riusciamo a immergerci al 100% nella scena E mettendo un attimo da parte Star Wars Torniamo un attimino a 1917 Come ha fatto il regista Sam Mendes a farmi percepire al meglio questo countdown? Girando tutto il film in un piano sequenza Beh il countdown è dato proprio dal fatto che i ragazzi devono portare questo messaggio Prima che i tedeschi riescano a effettuare quell'attacco E il regista per immergerci dentro questa situazione Ci racconta tutto il film in tempo reale Con un piano sequenza unico Che cos'è sostanzialmente il piano sequenza? Il piano sequenza è una tecnica molto utilizzata nel cinema Si utilizzava già ai tempi di Hitchcock E se voleste approfondire proprio relativamente a questo video Tutto il tema del piano sequenza C'è un'analisi fatta molto bene di 1917 Sul canale della Slim Dogs Nell'episodio di Come cazzo hanno fatto dedicato a questo film Ve lo lascio linkato giù in descrizione Io mi limiterò a trattare tutta la parte fotografica del film Loro hanno trattato la parte video Sostanzialmente il piano sequenza è una scena in cui la camera si muove Segue il personaggio, segue l'azione Ma non si ferma mai, non ci sono tagli Quindi immaginatevi un film di due ore senza tagli C'è tutta una ripresa continua per due ore Con cose che succedono Ovviamente non è proprio così Ci sono dei tagli fantasma Però vengono mascherati ad hoc Per farci comunque percepire questa linearità Questa continuità Che in questo caso, in questo film Ci fa sentire proprio parte della scena Per girare un film in piano sequenza Devi organizzare tutto Ci sono stati mesi, mesi e mesi di preparazione dietro a 1917 Ogni cosa è stata studiata, provata e riprovata per mesi Proprio perché ogni errore, durante le riprese Avrebbe costretto la truppa a ricominciare da capo Immaginatevi un film classico, pieno di tagli Tu fai una scena, l'attore magari sbaglia Oppure succede qualcosa di inaspettato, di imprevisto Rigiri la scena La maggior parte delle scene del cinema Sono girate decine e decine di volte Soprattutto quelle più complesse Qui invece non potevi girare tutto tante volte Perché? Perché ci sono innanzitutto Un sacco di limitazioni Di cui andremo a parlare a breve E poi immaginatevi di girare una scena Di dieci minuti in piano sequenza Arrivate al minuto 9.50 L'attore si sbaglia O succede qualcosa Insomma, c'è un errore di progettazione E dovete rigirare tutto da capo E magari la scena era perfetta Ma non potete metterci tagli Perché il film è stato studiato Per non avere tagli O quasi Quindi dietro a questo film C'è un'enorme preproduzione E proprio a causa di questa grande preproduzione Il direttore della fotografia Ha dovuto fare determinate scelte Proprio nella fotografia Ed è ciò di cui andremo a parlare oggi Infatti partiamo già dal primo frame Che andremo ad analizzare Che è questo Il frame sembra abbastanza semplice Abbiamo una luce laterale Abbastanza morbida Che illumina in maniera abbastanza fioca Quelli che sono i nostri soggetti Loro sono in una trincea Entra questa luce fioca da fuori Ed è un'illuminazione Abbastanza semplice Se la realizzi con la luce artificiale Ma qua di luce artificiali Non ne abbiamo E voi mi direte Ma perché avevano 100 milioni di dollari di budget? Perché girarlo in luce naturale? Beh, perché è un piano sequenza E qui arriva il bello Quando tu giri un film così grosso Con campi così aperti Con battaglie enormi Che ok, non sono grandissime Però comunque Campi molto aperti In piano sequenza Quindi non puoi fare tagli Non puoi neanche mettere delle luci artificiali Perché se tu mettessi delle luci artificiali A illuminare i soggetti Rischieresti sempre di inquadrarle Perché la camera si allontana Si muove Si gira E tu rischi di illuminare Quello che può essere un crane Con una luce Uno stativo Faro Insomma Non puoi usare luci artificiali Per questo motivo Praticamente tutto il film Tranne alcune scene È stato girato in luce naturale Ci sono alcune scene Che andremo a vedere dopo Che utilizzano luci artificiali Ci sono anche alcune scene Che sono state girate In un teatro di posa Ma per la maggiore Questo film È stato girato In un enorme set Che collega Tutte le location Infatti tutte le location Sono collegate le une con le altre Non vedremo mai Due volte la stessa location Proprio perché I protagonisti Stanno facendo un percorso Stanno passando dal punto A Al punto B Senza poter tornare indietro E qui si ritorna Al tema del tempo Il countdown Quindi appunto Per non utilizzare Delle luci artificiali È stata utilizzata La luce naturale Ma appare qui Un altro problema Il sole Innanzitutto perché Il sole è mutevole Potrebbe bruciarti una scena Poi arriva una nuvola Diventa troppo scuro Magari poi ti crea Un'ombra brutta E poi se tu consideri Di dover girare un film Con il sole In piano sequenza E di girarlo In svariate giornate Di riprese Hai un problema Cioè che il sole Si muove Ok ruota E quindi le ombre Che crea sul viso Non hanno una certa coerenza Per questo motivo E per lasciare Un'immagine più drammatica E più tenue Hanno deciso di girare tutto Con un cielo nuvoloso Questo perché appunto Le nuvole ammazzano le ombre E tu hai un'immagine Sempre molto flat Molto piatta Ma qual è la cosa figa Del frame Che vi ho fatto vedere Beh questo frame Ha innanzitutto Un'illuminazione Quasi al contrario Rispetto a quella Che è l'illuminazione Di tutta la pellicola Perché abbiamo Una sorta di controluce Che però muta In base alla posizione Dei soggetti Che si muovono appunto Durante la scena Tuttavia La scena stessa Deve mantenere una coerenza Con quella che è L'illuminazione Della scena prima Quella in cui I personaggi Entrano dentro Questo bunker Quindi il genio Di Dickens Cosa ha fatto Si è fatto costruire Un set appositamente Per questa scena Che infatti è diventata La sua preferita In questo film Ed è andato a far Posizionare I sacchi di sabbia Di modo che la luce Colpisse i personaggi In vari punti diversi Durante momenti diversi Della scena Infatti se guardiamo La luce inizia a essere Un pochino fioca Poi inizia a illuminare Il soggetto Poi lo scurisce E unendo questo Movimento della luce Dato unicamente Dai sacchi di sabbia E da come sono posizionati Al movimento della camera Che è molto molto lento Nonostante sia su una steadicam Ecco l'unione Di questi elementi Ha creato Quella che è una Delle scene più belle Secondo me Dal punto di vista fotografico Di questo film Prima di passare Al secondo frame Vi chiedo un piccolo supporto Se non siete ancora iscritti Al canale Fatelo Perché pubblico un sacco Di contenuti sulla fotografia Ogni settimana C'è un video sulla fotografia Nel cinema E anche un video sulla fotografia Consigli Recensioni Attrezzatura Insomma Un sacco di roba Lasciate un bel mi piace Al video E scrivetevi giù Nei commenti Quale è il film Che vorreste vedermi trattare Nel prossimo episodio Detto ciò Andiamo avanti Secondo frame In queste scene Vediamo il nostro protagonista Attraversare una città Distrutta Le rovine di una città Che probabilmente Ha subito un bombardamento Riprendiamo un attimino Un punto Che abbiamo trattato prima Il set È costruito Ad hoc Tutto ciò Che c'è nel film Tutti i set Che vediamo Sono stati costruiti Con delle miniature E il regista Insieme al reparto Degli sceneggiatori Cosa ha fatto Si è messo lì E ha detto Ok Io ho questa scena Di boh Tre minuti Perfetto Voglio che La dimensione Di questo set Sia tre minuti Di camminata Quindi quanto ci mette Il soldato a camminare Per tre minuti Così ok Allora voglio che sia Di questa dimensione Poi voglio questo muro E quando sarà su questo muro Allora ci sarà questa luce Poi si sposterà di qua Ci sarà quest'altra luce Con una differenza sostanziale Quando te fai la scena Di giorno E c'è tutto nuvoloso Allora tanto tanto Non ci sono ombre La luce non è troppo dura Insomma Riesci a giocartela Tra virgolette bene Ma quando devi illuminare Una scena di notte Abbiamo detto Che non possiamo utilizzare Luce artificiali Cioè luci piazzate Direttamente sul set Perché? Perché altrimenti Si vedono Magari l'attore Ci passa a fianco L'inquadratura si sposta Pian pianino Si allontana E se tu sbagli Perché magari Ti si vede una luce lontana Che non dovrebbe esserci E nel cinema Si usano sempre Luci dove non dovrebbero essere In quel caso Ti tocca rigirare tutto E non è un granché Come state vedendo però Le luci e le ombre Si muovono costantemente Non abbiamo una luce fissa Tipo luce lulare Ad esempio abbiamo visto In jungle Le scene di notte No Abbiamo delle luci Che si muovono continuamente E come hanno fatto? Beh sostanzialmente In preproduzione Il regista Ha preso una piccola torcia Una sorta di torcia E ha illuminato il set Per vedere pian pianino Come cascassero le ombre Sul set Quello vero Cosa hanno fatto? Hanno preso delle specie di gru Collegati dei bengala Bianchi Che mettessero una luce controllata Cioè Loro hanno deciso tutto prima E quindi sapevano che Questo bengala sarebbe partito da qui Sarebbe arrivato qua E avrebbe fatto questa illuminazione Quindi facendo questa illuminazione Ci sarebbero state Queste zone di luce E queste zone d'ombra Così via per tutti i bengala Che quindi andavano a seguire Il percorso del protagonista Che si muoveva fra queste mura Della città E in tutti i frangenti Veniva illuminato Proprio da questi bengala Perché altrimenti sarebbe stato Sempre buio O sempre troppo illuminato Insomma C'è stata una coordinazione enorme Come il nuoto sincronizzato Fra quelle che erano le luci Che però non erano luci fisse Ma bengala Sparati in aria Tenuti in volo Con delle gru E l'attore stesso Che vagava In queste scene E passiamo infine A quello che è il terzo Frame Che voglio andare ad analizzare Questo qui In queste scene Abbiamo il protagonista Che si trova davanti A una chiesa Che prende fuoco Questa chiesa è enorme Gigantesca Folle E come hanno fatto A costruire questa chiesa Gigante che va in fiamme Beh Alcuni registi Probabilmente avrebbero Costruito un edificio E gli avrebbero dato fuoco In questo caso Non è andata proprio così La chiesa È in realtà Un edificio Costruito appositamente Una sorta di palazzo Riempito Di mega luci Ok Ci sono tutte delle luci Ce ne sono 2000 Per la precisione Che vanno a simulare Un po' Quelli che sono I frame delle finestre Quindi da una parte Mettevano una luce Più rettangolare Da una parte Una luce più quadrata Come a simulare appunto Le finestre di una chiesa In tutto ciò Creato tutto questo Ambaradan Di edificio gigante Per illuminare la scena E creare questa Silhouette fantastica Sorigeva un altro problema Cioè che la camera Comunque si muoveva Intorno alla scena stessa Insomma Intorno all'ambiente E per compensare Le esposizioni Dato che c'è un sacco Di movimento Durante queste scene Tutte quelle luci Erano dimerabili Quindi sostanzialmente C'era qualcuno Che regolava L'illuminazione Di queste 2000 luci Messe su sto palazzo Gigantesco All'avvicinarsi All'allontanarsi Della camera Qualcosa di veramente Assurdo Poi ovviamente In CGI Hanno modificato L'edificio stesso Mettendoci il fuoco Al posto delle luci Eccetera eccetera Però di base Tutto stato girato Esattamente così Ed è assurdo Per questo episodio Non riuscirò A realizzare Una foto A tema Sostanzialmente Perché non si può Uscire per la quarantena E quindi Realizzare uno scatto In casa Ispirato a 1917 Non è molto facile Avevo pensato A qualcosa In realtà Da realizzare In spiaggia Ma lo farò Magari un domani Per Dunkirk E poi appunto Perché non ho avuto Modo di procurarmi Un abbigliamento Adeguato Lasciatemi un commento Scrivetemi Se questo video Vi è piaciuto E se vorreste vedermi Trattare un altro film Nel caso quale Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao